Salve a tutti ragazzi con Manemo, oggi sono con Samu sul corallino, sul corallino selvatico E ovviamente questo è un video condiviso, quindi se andate sul canale di Samu vedete il suo pov, la sua visuale E niente, vi lascio al video Ok No Vai metti Aniston Ok Allora se volete un video dove vado a rubare la droga, non fatemelo sapere Ehm, ma abbiamo usato in base Ecco qua Non lo puoi tanto Scusa ti ha scritto, ho un passorello Allora caro amico, quick cover, vai a cacare a spruzzo L'arrivo Nio Ma la chiama è pazzamato Basta, io non c'ho cos'è fare. Chi? Il tuo? Ah, no, no, perché non è il tuo, non è il tuo. Ok. No, 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 no. Su! Va bene, il broè. Va bene. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. ma sono pro camminare che cosa di ciotto che poi ti levo povra troia vabbè hai preso delle leggi di superciapena che mi hanno messo la torino per esempio perchè senza questo salute nooo epp epp era lo spirito lo sai che avresti fatto veramente vero arrivo ma no mi hanno messo tutte e due e monti? andiamo a cercare di amonto andiamo a cercare di amonto vieni 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 no 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 ti fanno cadere tutti e due guarda uno lo fa uno lo uccido uno lo uccide io vabbè ragazzi nulla ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao